Danese Parte Bangu per DHT 2-0 della Fiorentina a segno anche DHT ha svettato in maniera imperiosa sugli avversari, nulla da fare per Runarsson e come vedete i giocatori Viola vanno a festeggiare con Guidi che ai suoi ha detto ve l'avevo detto insomma dovevamo continuare così dovevamo arrivare al doppio vantaggio a fine primo tempo, adesso sta parlottando anche con Bangu dando altre indicazioni sul come fare per continuare a dare fastidio ai danesi, a proposito di aneddoti ricordiamo anche l'edizione del